È stato presentato a Palazzo Lascaris il numero speciale della rivista di Compol, il quadrimestrale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica, edita dal Mulino, dedicato al tema dell'Europa e curato dal Dipartimento di Culture, Politiche e Società delle Università di Torino. Il volume raccoglie diversi contributi, saggi, ma anche rubriche con focus tematici e recensioni su un tema, quello dell'Europa, oggi ritenuto più che mai centrale.